Reali, molto frigo e soprattutto anche le sensazioni che dà sia il volante che la scocca è proprio uguale a quella della realtà. Cioè è proprio realistico anche quando ho fatto capottare la macchina, mi è sembrato veramente bello. Bello complicato ma molto divertente. Non ho mai avuto esperienza con la Formula 1, però mi sembra, penso che sia abbastanza più, molto realistico. Ottima esperienza, è la prima volta per me provando un simulatore, sensazioni direi abbastanza simili a quello che si trova guidando un'auto e quindi è una bella sensazione. Molto realistico. Molto realistico. È completamente diverso da qualsiasi altra. Molto realistico. Molto realistico nel corno e nel ruolo di ruolo. È la mia prima impressione. Ma anche aiuta il movimento al fondo. Senti che il carro sta muovendo. È assolutamente bello. È realistico perché senti, cioè quando esci di un risco, e quindi esci di un risco, è molto realistico.